Ciao, sono Ludmilla, frequento gruppo dei principianti. Devo dire che sono molto contenta e felice di partecipare a questo corso, praticamente mi sta cambiando la vita. Abbiamo due maestri bravissimi, Giulia e Simone, che ci mettono nei nostri panni. Grazie mille del vostro impegno, anche Samuele e Erika. Ciao, un bacione.